Anche il gruppo Zegna dice addio alle pellicce dopo aver preso la decisione che le collezioni 2022 saranno le ultime a usare pellicce animale, sia per Zegna sia per Tom Brownie. Credo sia una decisione che andava presa e che si inserisce nell'ottica della nostra politica legata alla sostenibilità, ha spiegato Ermene Gildo Zegna, presidente del gruppo. È stata una decisione lunga, ha detto, ma credo fosse dovuta. La pellicce inoltre rappresenta meno dell'1% delle nostre vendite. Oggi ci sono alternative con materiali di lusso e non ci mancherà molto la pelliccia animale. Inoltre, ha evidenziato sempre Zegna, parte della nostra etica sin dalla fondazione nel 1910 è proprio la convinzione che la creazione di prodotti di alta qualità vada man mano con la cura del mondo naturale che ci circonda. Zegna non è il primo produttore a lasciare la pelliccia fuori dalle collezioni, già Armani, Gucci, Hugo Boss, Ralph Lauren, Furla, Versace e così via hanno compiuto questo passo negli anni. E la decisione arriva anche dopo la stretta contro la produzione di pellicce naturale adottata dal governo a fine 2021, che prevedeva il difieto sul suolo italiano di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, proccioni, cincilla e altri animali utilizzati per ricavarne pelliccia. La misura consente in deroga agli allevamenti di mantenere gli animali già presenti nelle strutture non oltre il 30 giugno del 2022.